Seventy Settanta Settanta To like something Aver voglia di qualcosa Aver voglia di qualcosa Would you like to smoke? Le va di fumare? Le va di fumare? Would you like to dance? Le va di ballare? Would you like to go for a walk? Le va di fare una passeggiata? I would like to smoke Vorrei fumare Vorrei fumare Would you like a cigarette? Vuoi una sigaretta? Vuoi una sigaretta? He wants a light Lui vorrebbe accendere una sigaretta Lui vorrebbe accendere Una sigaretta I want to drink something Vorrei bere qualcosa Vorrei bere qualcosa I want to eat something Vorrei mangiare qualcosa Vorrei mangiare qualcosa I want to relax a little Vorrei riposarmi un po' Vorrei riposarmi un po' I want to ask you something Vorrei chiederle una cosa Vorrei chiederle una cosa Vorrei chiederle un favore Vorrei chiederle un favore I want to treat you to something Vorrei offrirle qualcosa Vorrei offrirle qualcosa What would you like? Desidera, prego Desidera, prego Would you like a coffee? Gradisce un caffè? Gradisce un caffè? Or do you prefer a tea? O preferisce un tè? O preferisce un tè? We want to drive home Vorremmo andare a casa Vorremmo andare a casa Do you want a taxi? Vorreste un tassì? Vorreste un tassì? They want to make a call Loro vorrebbero telefonare Loro vorrebbero telefonare